Gentili amici del blog di Venezia Laguna Nostra, buonasera, anzi forse sarebbe meglio dire buonanotte visto che ci troviamo in questo momento esattamente nell'oscurità totale qui in villaggio Laguna a Campalto esattamente nella zona prospicente alla gronda lagunare dove un intero quartiere si trova assolutamente privo di illuminazione con i lampioni totalmente spenti in una condizione poi di mancata sicurezza che si potrebbe riversare soprattutto per i veneziani che qui ci abitano per le loro macchine parcheggiate eccetera eccetera. Stiamo facendo questo piccolissimo filmato per farvi notare questa situazione una situazione, una condizione che avviene oramai da diverso tempo non solo qui a villaggio Laguna ma anche in altre zone della città di Venezia abbiamo potuto documentare negli scorsi mesi la situazione di Corso del Popolo, precedentemente negli scorsi anni era soprattutto la volta del Lido di Venezia con le zone assolutamente non illuminate di Cittagiardino, di Cabianca e delle terre perse a seconda delle giornate e questa sera siamo qui in questa oscurità più totale davanti a queste 3-4 luci che potete osservare e che si riferiscono diciamo alla illuminazione delle entrate dei vari palazzoni. Una condizione cari amici che purtroppo si abbatte anche sulle tasche dei veneziani. Sapete tutti che ovviamente sono state aumentate le tasse a livello nazionale, è stata introdotta una tassa che si chiama tassa per i servizi indivisibili e dovrebbe essere diciamo specifica per quanto riguarda uno degli aspetti l'illuminazione pubblica. Ecco questa sera qui illuminazione non ce n'è. Ovviamente i veneziani pagheranno la loro bolletta non ci saranno sconti, non ci saranno diciamo degli abbattimenti delle loro bollette, però questa sera a Villaggio Laguna a Campalto nel quartiere veneziano appunto qui dove siamo in questo momento non c'è illuminazione con una mancanza di sicurezza purtroppo che si estende successivamente poi in tutte le zone buie del Villaggio Laguna. Ecco noi stiamo facendovi vedere qualche casa, qualche abitazione che appunto ha la luce accesa ma ci sono diciamo giardini interi dietro ai palazzi che sono privi di illuminazione e diciamo che la città non sta dormendo perché i veneziani stanno tornando dal centro storico, da piazzale Roma alle loro abitazioni e devono poi passare anche questi punti dove l'illuminazione è totalmente inesistente, totalmente inesistente. Una situazione davvero incredibile cari amici che purtroppo questa sera abbiamo deciso di documentare dal fatto che sta avvenendo diciamo spesso in varie zone della città e questa sera qui a Campalto a Villaggio Laguna. Giriamo un attimo la nostra telecamera e vediamo sostanzialmente che le uniche luci che sono accese che potete osservare sono quelle dei due bar che questa sera sono qui aperte per accogliere diciamo qualche giovane, qualche veneziano che sta passando la serata tra una stecca, tra un tiro a biliardo e una televisione accesa per vedere qualche partita appunto qui a Campalto a Villaggio Laguna. Cosa dire amici? Vedremo un attimino di documentare un'altra condizione come questa, per il momento vi lascio con l'unica luce accesa che si può trovare che è quella di un palazzo qui a Villaggio Laguna, per fortuna che c'è perché sennò si andrebbe anche a sbattere addosso i muri e speriamo di no. Per il momento comunque è tutto da qui, da Villaggio Laguna in questa condizione totalmente di luce inesistente, di illuminazione pubblica non accesa. Tell Aquilotti Laguna, Villaggio Laguna nell'oscurità Venezia!